Al momento le ipotesi sono tutte aperte ma dalla procura della Repubblica di Foggia, competente per territorio, trapelano poche notizie. Del corpo della donna ripescata a largo delle isole Tremiti non si conoscono ancora le generalità. Sono stati alcuni isolani a dare l'allarme dopo aver avvistato il cadavere galleggiare da una barca. La capitaneria di Porto di Termoli ha eseguito i primi accertamenti, poi la salma è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Vieste sul Gargano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quello che è trapelato è che il corpo sarebbe in un avanzato stato di decomposizione, il che lascerebbe aperta la possibilità che possa trattarsi del cadavere di Brunella Chiù, la donna di 56 anni che è data per dispersa da più di un mese e mezzo, da quando, cioè lo scorso 15 settembre, la zona di Senigallia è stata investita da una specie di ciclone che ha provocato un alluvione che ha devastato le marche e fatto 12 vittime. Le correnti avrebbero trascinato il corpo fino a di fronte al Porto di Termoli, distante più di 120 miglia marine da quello di Ancona, la zona dove i fiumi del Pesarese si riversano nel mare Adriatico. E Brunella Chiù era stata trascinata via dalla furia del fiume Nevola proprio la sera del 15 settembre, ricercata senza successo dai vigili del fuoco locali e dall'unità di comando da 48 giorni ininterrotti. Nelle prossime ore la donna senza vita ripescata alle tremiti verrà comparata con gli elementi a disposizione degli inquirenti marchigiani per accertare o escludere che si tratti della 56enne dispersa.